L'attività umana è responsabile del 100% del riscaldamento globale avvenuto dalla rivoluzione industriale. Il mondo, così com'è, non sarà più un posto ospitale. Le popolazioni umane hanno portato altre popolazioni umane sull'orlo dell'annientamento. E noi ad ogni respiro dovremmo chiederci se siamo degni di quello che ci è stato dato. Ci solleveremo contro la crisi globale o no? Un terzo di tutta l'acqua potabile usata dall'uomo è destinata al bestiame. Dove suona la musica e governa la tecnica e mi piace la plastica. Si sperimenta la pratica e si forma la lacrima. Grazie a tutti.